Così, guardate qua, che bello, appetitoso. E poi questo roccante del fiori di zucca. Guardate che spettacolo! Volete fare una ricetta, come dico io, con due spicci e stupiti i vostri amici, ospiti, fidanzati, moglie, socere, quello che volete voi? Ve la dico subito. Faremo un cefalo ripieno di fiori di latte, fiori di zucca e alici, fritto e con una cremetta di zucchine. Che vuoi che fa? Una bontà! Ingredienti. Questo è un cefalo oro. Vedete la macchina d'oro? È stato già scomato e viscerato. Questo è un pesce che a Roma, quindi poi ognuno di voi dirà da me che costa 5 euro, da te che costa 20. Io l'ho pagato 12 euro al chilo. Ma guardate che pesce! Stupendo, una carne eccezionale, vi stupirà! Il panco per la frittura. Abbiamo l'aglio, la cipolla, il fior di latte, l'alici, i fetti di alici, quello è buono, un po' di farina di riso, fiori di zucca, zucchine romanesche con fiore e lui, l'olio extravergine quello buono. Cru Soil di Agostino Sommarino. Un bacio Agostino, bello! Allora, iniziamo subito dalle zucchine. Quindi wok, eccola qua, via wok, bella! Poi, prendiamo le zucchine romanesche, già lavate, tagliamo le due estremità e affettiamo sottili, 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 così, piano, piano, piano. Un coltello che taglia, vedete il movimento che faccio? Così, io non metto l'unghia così, perché sennò me la taglio. Quindi se avete le unghie lunghe potete pure mettere così, non c'è problema, ma se avete le unghie giuste, fate in questa maniera, così non ve le tagliate. Ok? Sottili, sottili, sottili. Ma perché le faccio così sottili? Allora, perché le devo saltare velocemente, quindi le devo cuocere velocemente. Se vi capita una zucchina come questa, guardate che bella, strana, non è perfetta, che ha tanto bianca all'interno. Vediamo un attimino, no? Così. Voi che fate? Dato che dobbiamo avere un bel colore verde, brillante, che stacca, no? Adesso mi dicono, nella moda, deve staccare, no? Noi facciamo in questa maniera. Prendiamo tutto quanto la parte verde. Questa parte qua qualcuno mi dirà, e che fai? Abbotti? Non la butto, ragazzi. Ma il brodo vegetale a casa non lo fate? Un bel brodo vegetale con la zucchina? Buonissimo! I ragazzini saranno contentissimi. Allora, poi taglio sottile anche questa parte. Poi un pezzetto di cipolla, bella, ramata, bianca, cipolla fresca, fate come volete voi. Quello che c'è di buono a casa è fresco. Eccolo qui. Quella rossa no, quella rossa no. La rossa mi piace moltissimo, però non per fare questa ricetta. Taglio anche questa sottile, sottile, sottile. Eccola qua. Cipolla. Poi, lo apro qui, eh. Questo è un olio nuovo di Sommariva. È il Crussoil. Che cos'è? È un olio, ci sono tre olie, tre coltivazioni diverse di olivi. C'è la taggiasca, la pignola e la colombara. Ecco qua. Assaggiamo. Questo qua è un olio ligure. E tutti coltivano ligure. Buono, delicato, non sovraste il cibo. L'accompagna, il pesce soprattutto. Poi, accendiamo e facciamo un po' stufare la cipolla. Tanto poi frulleremo tutto. Ma non profumo col fiore della zucca, mozzarella, alici, ercefalo. Che ce l'abbiamo a mettere? Il basilico. Andiamo a prendere il basilico. Oh, non cominciate a criticare. Prendo un po' di basilico. Eccolo qua. Metto il gambo, facciamo un po' profumare. Così. E poi, zucchine. Eccoli qua. Due parole sul sale. Da quanto tempo a voi il sale non si fa mattone? Vi ricordate? Adesso voi prendete il sale a casa vostra, dentro la scatoletta e il sale è tutto bello sgranato. Guardate questo sale. Lo fa così. Perché? Perché è un sale, guardate, vedete? È duro. Perché è un sale non trattato. Questo è un segno di... Che è naturale. L'assenza di roba chimica, di trattamenti chimici, è fantastico. Questo qua è il sale dei Trapani, delle saline dei Trapani. Quando vedete il sale che è umido, è solo un pregio. Almeno per quanto ne so io. Poi, pepe. È mai grattata. Mariuccio, stai fare merenda col gelatino? Ma senti poi? C'è le mutandine di Romoragno, c'hai? Lui è indeciso, tra Romoragno e Iron Man, è indeciso ancora. Devo sfilettare il pesce? Passerò. Vedi il pesciolino? Lo riconosci questo, il cefalotto? Fai qua. Vedi il bacetto? Non devi avere paura. Bacetto? Bravo, carezze, così. Vedi l'occhietto quanto è bello vivo? Guarda, guarda qua. Una saltata delle zucchine. Sentiamo un po' se sono pronte. Assaggio. Buono. Iniziamo a sfilettare il pesce. Allora, prendo il cefalo. Allora vi dicevo, questo è il cefalo che dovete comprare quando ha questa macchietta d'oro, perché ho detto che è di fondale. quindi è un pesce che sta all'aria aperta, al mare aperto, sta e mangia un'altra cosa, non quello del porto, perché sennò fate il pieno, del supero o del gasolio. Allora, taglio qui, incito qui, qua vicino alla testa. Poi, guarda che meravuma, qui c'è la spina dorsale, vedi qua proprio, spina dorsale, insomma, la lisca centrale. Quindi, taglio, con un bel coltello, questo qua è un coltello che ha una bella punta, vedete che punta ha? Bella, sottile, non ha una lama grandissima, vedete, ci sono qualche squame, mi raccomando, levate bene le squame, perché è fastidiosissimo mangiare le squame. Così, tiro così, ok, così, perfetto. Così, eccolo qua, eccolo qui. Eccolo qui, poi, prendiamo quest'altra parte, questo qua, appoggiamo qui, prendiamo quest'altra parte, e ripetete la stessa cosa. Partendo però, io mi trovo meglio, partendo dalla coda, così, quando è la parte opposta, che non c'è più l'appoggio della ciccia. Se vi sembra troppo complicato, lo fate fare al vostro pesciventolo, che sicuramente sarà felice, anche perché, allungatevi una mancetta, che poi quello, vi rimedia pure lo vette, del pesce, lo fate amico, capito? Vai. Se vi rimane un po' di ciccia attaccata alla lisca, fate così, lo grattate col cucchiaio, ok? E questa la potete recuperare per fare una pasta, per fare qualsiasi altra cosa, vedete, guarda così, bene, guarda così, la lisca a testa, non la buttate, ci fate un fumetto, ci fate la minestra di pesce, è buonissima. Se non sapete fare la minestra di pesce, andate a vedere la mia ricetta sul mio canale YouTube o su Facebook. Poi, prendiamo i filetti, eccoli qua, leviamo bene questa parte vicino alla pancia, così, dove ci sono le spine, eccoli qua, e qui ce ne sono delle altre, sentite le spine, qua ci sono quelle centrali. Allora che faccio? Con una pinzetta di questo genere, leviamo le spine, però la cosa che vi consiglio è questa, una ciotolina, un po' di acqua, e fate così, sciacquate, così lavate bene la pinzetta, non rimangono le lische attaccate alla pinzetta. Ecco qua, e proseguite. Io vado dalla testa, verso la coda col dito, così sento proprio la spinetta, quando sporge. Ecco qui, questo è pulito, perfetto. Andiamo con quest'altro, Mariuccio che stai facendo? A che stai giocare? Con la scatoletta stai giocare? A quanto ti piacciono le scatole, eh? Filetti fatti, adesso li porzioniamo, tagli a metà, così, e lo stesso questo, va bene? Così, ok, così li possiamo pure, io che faccio normalmente? Quando li accoppio, guardate, accoppio testa con coda, con la parte della coda, così è equilibrato, non abbiamo soltanto uno che si mangia le cote e uno che si mangia la testa, però qui dentro ci dobbiamo mettere qualcosa, no? Che cosa? Prendo, fior di latte, quindi, poco umida, sennò esce tutto quanto il latte, bagna tutto il pesce, non si cuoce mai, poi, fiori di zucca, eccoli qua, prendiamo questo, questo, e questo, li puliamo come facciamo sempre, cioè li diamo prima questi, diciamo questi pezzetti di verde esterni, poi il pistillo, ok, e metto qui dentro, ok, mettiamo un po' di sale, qui, eccolo qua, perfetto, un po' di pepe, calmi calmi, noi oggi dobbiamo fare un bel piatto che faccia un bel effetto, con pochissimi passaggi, con pochissimi ingredienti, poi la ciuchetta, immaginate, mozzarella, fiore di zucca, l'alicetta, che totica fa, una bontà, poi guarda calicette, guarda che filetti, guarda qua che robetta, vai, metto qua dentro, quindi poco sale, avete visto commesso, allora, vi dico anche un'altra cosa, se avete la possibilità, e ce l'avete a casa, potrebbe anche essere divertente, metterci la bottarga, al posto dell'acciuga, però, con l'alice è perfetto, con l'alice è perfettissimo proprio, in alternativa, se state in Sardegna, c'è la bottarga, con la bottarga, così, c'è pure l'unione, questo è un cefalo, è la muggire, da lì proviene la bottarga, poi, chiudiamo, in questa maniera, guardate che bello ragazzi, che spettacolo, che paninozzo bello, poi, padella, accendiamo il fuoco subito, un filo d'olio, così, e subito mettiamo il pesce, subito, nemmeno si riscalda, se voi partite da freddo, il pesce, nemmeno si areccia tutto quanto, se no, dovete poi incidere la pelle, invece, guardate così, e lo mettiamo qua, così, e piano piano, lo facciamo cuocere lentamente, ma come dite, con quelle zucchine che ci fai? Poi vi faccio vedere io, metto qui i tagliucci di pesce, così poi li assaggiamo, no? Facciamo il test, il vecchio test. Adesso, prendiamo il contenitore, levo il gambo del basilico, metto le zucchine qui dentro, così faremo una bella cremetta. Metto un goccio d'acqua nella patella, raccolgo tutti quanti gli umori, no? della zucchina, e metto un goccino d'acqua, perché un po' d'acqua mi servirà. Metto un filo d'olio, così facciamo una bella emulsione, così, una bella cremetta. che bontà ragazzi, che bontà, guardate il bel colore. Che mi dici, Capron? Assaggia un po'? Mazzà che bontà ragazzi, pensa un po' per una zucchina trombetta, quelle liguri, buonissime, speciale, speciale. Questa crema può essere anche servita fredda, è pazzesca. Vedete? Guardate il pesce, piano piano si sta cuocendo, qui è facilissimo, perché vedete piano piano che sale il bianco, e cuoce la parte, vedete? Qui è rosa ancora questa parte centrale, quando vediamo che è diventato quasi bianco, la giriamo, e così vediamo tutto perfetto. Questo è un piatto figo, che poi voi potete anche sostituire il cefalo colorata, la spicola, è un'idea, io vi do idee, poi voi fate come vi farà voi. sarebbe meglio usare un pesce selvaggio, che è allevato, questo è il mio consiglio. Mi sto preparando la padella con un po' di olio di arachidi, ecco qua, perché daremo anche un po' di croccante a questa ricetta. E il filo di zucca non vogliamo friggere? Che fai? Ci perdiamo questa squisitezza? Io poi sto nervosissimo, non si beve oggi, dai! Sembra un gelato, il non filtrato, il mio preferito ragazzi, il dovevo fare, il pan dell'uovo. Col coltello, oggi è apertura col coltello. A voi ci manca solo l'accendino, vorrei aprirlo con l'accendino. Qualcuno mi ha detto se ti vede un somigliere che versi il vino così, ti uccidono. Lo posso fare come pare a me, a casa mia? Eh madonna mia! Ah! Ah! C'ho pure da assaggiare, guarda che bello, bello abbrustolito, guarda che meraviglia! Un pizzico di sale, qua non ce l'abbiamo messo, ce lo mettiamo, zacchete, fammi assaggiare il pezzettino, guardate che bello, bello, la crosticina! Fai assaggiare, grossina! Ah, spiegate, fa un baffo questo cefalo! Esagerato, pure un pezzo di ghiaccio fino dentro al bicchiere! Ah! Assaggiare, bravo! Completo, faccio fare l'assaggio completo, dai! Perfetto! Una bontà! A sto punto, vedete? Io lo giro, guardate la cottura, è leggermente rosa qua dentro, vedete? Faccio così. mamma mia ragazzi mia! Guarda la pelle qua, croccante, tac, 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 tac! Vai, l'altro giro, ecco qua, avete visto il pesce? È rimasto perfetto in questa maniera, partendo da freddo, hai visto la padella perfetta così, eh? quindi la prossima volta partite da freddo, è fighissimo, così non si rovina per niente il pesce. Spirucchio altri tre fiori di zucca, levo il pistillo, un seguito per farli mantenere belli freschi, i fiori di zucca, è quello di metterci l'acqua all'interno dei fiori, e poi un vasetto come ho fatto io con dell'altra acqua, vedete l'acqua? E li devo trattare come se fossero dei fiori. Metto un po' di farina di riso, così per gli intolleranti al glutine, è perfetto. Invece dell'acqua o della birra, mettiamolo un frittrato, così, bello ghiacciato, e facciamo una sorta di pastellina, così, guardate che casino che faccio sempre, mamma mia, sono un macello, me lo dico da solo. In alternativa a questo vino, potete usare una birra ghiacciata, un'acqua cassata, come volete voi. Poi, passiamo i fiori di zucca, così, belli. Poi, panco, ok, e poi vediamo un po' se è caldo. Mmm, dai, ci stiamo, stiamo piano piano. Ah, vai, così, un altro. Pure se si rompe non fa niente, eh. Il pesce è pronto, spengo il fuoco, guardate, è cotto, è bianco, tutto bianco, perfetto. fiori di zucca, adesso prendiamo, qua i belli croccanti, così, così non dite, no, è fritto, è unto, tutto a posto, tutto sotto controllo, vieni, guarda qua, che spettacolo, vai. Belli così, adesso belli, stupendi sono. Finalmente impiattiamo, ecco qua, piatto nero. Bello, elegante, no? per quelle serate un po' così, un po' così, un po' così, un po' così, un po' di crema sotto, anche fredda va benissimo, così c'è il gioco del calore. Poi, palettina, prendiamo il pescetto, eccolo qua, così, guardate qua, guarda che bello, appetitoso. E poi questo croccante del fio di zucca, guardate che spettacolo. Un po' di sala adesso sul fio di zucca, così. Adesso bisogna assaggiarlo, ragazzi, dai, pezzetto di pesce, poi, oddio, cucchiaio, con la crepetta, un pezzetto di fiore, tieni. Croccante è croccante, lo adoro, con una zucchina, un fio di zucca, un cefalo, un fior di latte, e una ricetta buona buona, quella di Sant'Erasmo. È un buon vino, mi raccomando, leccate, commentate, iscrivetevi, perché stanno aspettando, così arrivano le notifiche, vi chiamano, guardate, è arrivata la ricetta nuova di Max Mariola. Alla salute, viva l'Italia, e viva questi piatti fatti con due spicci. Ciao!